Una notte, a poche miglia da bagheria, un chiarore strano attirò la mia attenzione. Su un'altura di una villa isolata, qualche cosa bruciava. Non c'era da sbagliarsi. Anche il cavallo lo sentì. Allora corsi verso il cancello che non era molto lontano. Lo trovai spalancato. I ladri, pensai. Non sapevo cosa fare, ma in quel momento vedo un uomo a cavallo che veniva giù come un tannano. Un miracolo se riuscì a scansarlo. Non avevo potuto nemmeno vederlo in faccia. Però, voltandomi, sento qualche cosa sotto il piede. Bichino. Era un portasigari. C'erano due cifre e una corona. Doveva essergli caduto nella corsa. Non aver paura, piccino. Ci sono io. Madonna santa. Mamma! Motto! Ciao! No, 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 no.